buona giornata continua a guardare in alto questo è il segreto della vita charles schultz con questa frase oggi ti voglio dire continua a guardare in alto questo non vuol dire semplicemente guardare in alto certo oggi con tutta la vita di oggi con tutti i cellulari con tutte le cose in cui stiamo per la maggior parte del tempo con il collo in basso anche guardare in alto non sarebbe male non farebbe male ma sicuramente continuo a guardare in alto non vuol dire guardare semplicemente rivolgere lo sguardo in alto ma continua a guardare ai tuoi sogni continua a guardare a quello che vuoi raggiungere non ti far fregare da quelli e ti dicono no ma che vuoi fare tanto non ce la farai tanto ma non l'hanno già fatto secondo te perché non l'hanno già fatto perché non si può fare no 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 non ci pensare pensa a come raggiungere i tuoi sogni perché quelli non titoli non te li toglierà nessuno continua a guardare in alto guarda in alto daniele paci per felicità e pace buona giornata ciao